Non so più che dire, colpisci il mio cuore, fino all'imbrunire, intesa d'onore. Confronto gli sguardi, non sono bugiarti, intuizione fatale, non puoi terci e stare. E ora che tu non sei più mio, metto un punto e vado via, ora che non sei qui con me. E ora che tu non sei più mio, metto un punto e vado via, ora che tu non sei più mio, metto un punto e vado via, ora che tu non sei più mio. E' un progetto musical che è molto recente, ma che ci traslata a questa epoca dorata della musica pop, dei 80, a questi ritmi che calaron tanto. E anche che in italiano e in francese la musica pop suona di un'altra forma, ha un sonido molto speciale. Ci siamo con Nina Blom, grazie. Grazie. Tu hai queruto recuperare, non? Grazie. E' un sonido pop, di 80, così classici, dove anche, come dicevo, sonava molto bene in italiano. Ah, grazie. Sì, sì, basicamente sempre, sempre ho sentito musica più antica. Allora, quindi, come dicevo, potrebbe essere un progetto di un'altra musica di un'altra musica di un'altra musica. e coge inspirazione per lì. Tu sempre, da un tempo, lavoravo con il rock con un altro gruppo. Sì, ho fatto un progetto di musica rock con il gruppo che si chiama The Death of Robert da tre anni e ho fatto un progetto in quanto arrivai a Barcelona da tre anni. E sempre facciamo un rock un po' introvertito, un po' più oscuro e l'anno passato dopo aver terminato il Covid e di aver potuto salire a la calle e mi piacerebbe essere un po' più divertito qualcosa che possa tocare e a la vez ballare. Algo che alegre a la gente in questi tempi. In una epoca in cui tutti i sui soni dei 80 li valora incluso la gente joven che magari ha llegato un momento che si ha saturato di tanto ritmo latino. Correcto, io vedo che molta gente sta, giusto per questa ragione sta volvendo a lo che aveva a lo che aveva anche anche per esempio io sempre ascolti musica in l'80 anche nel rock sempre ascoltando la televisione o New Order o il D'Q. Quindi il anno passato ho iniziato a explorare il pop dell'80 o il Aos e mi sta gustando molto. Tuvo molta fuerza in Italia perché ti ha un sonido speciale anche tu anche stai cantando un po' in francese. Mi piacere, sì, sono molto inspirata anche per il pop francese e magari un giorno vorrei anche a scrivere un francese o in un altro idioma. Però sì, in Italia ha avuto abbastanza di un'èxito a la gente a la gente le gustò molto e mi ha fatto molta ilusione di verità che sì, che ti avviene abbastanza. Che ora nazca questo progetto Nina Blom con le mani di recuperare quelli ritmi. Parlami ancora è il single con il che ti ti lanci a questa nuova avventura. Correcto. Parlami ancora di questa canzone. Sì, non so, sempre scrivi in inglese in realtà e non so come pensi, non fu qualcosa studiato e ho detto che ora mi faccio a scrivere un'alvo in italiano. Non so come mi è stata la inspirazione e ho detto che mi ha costato un po' più, perché non sono acostumbrata a scrivere in italiano, anche se a mio idioma nativo. È molto raro, però è stato un po' 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 è molto facile la casa di produzione si chiama Cortea Film e si in tutto. Ha sido un gran cambio per una rockera metersi in los zapatos del pop e convertirte in una pop star. E vestirme de rosa ademais che me encanta il rosa però è un estilo totalmente differente e al principio la actuazione molto femenina molto baiolonga mi costò un po' però poi me lancé e ho detto che è bene experimentare e provare cose differenti e te sientes più a gusto sì poco a poco la canzone sta funzionando molto bene hai molti visualizzazioni in internet molta gente dandole al like e soprattutto gente joven che è che magari a lo mejor necessitano il panorama musical di cose nuove che in questo caso sono retro sono vintage io credo che per lo meno mirando il panorama di spagna e l'Italia che è di dove vengo di dove sono hai pocos artisti che explorano questo gênero soprattutto in un idioma che non sia per esempio qui il spagnolo e io credo che può funzionare e che a la gente le può gustare che può divertire che è la cosa che mi piace il inglese tiene la fama di essere il idioma per il pop e per il rock però hai che dire che la musica italiana suona come un caon cantata in italiano non si che non si che in italiano ma non si che in spagna non è vero è vero ho avuto molto bene che mi piace e mi piace e mi piace mi piace che anche che la gente spagnola o catalana si potesse cantare questa canzone in italiano e sta bene. Il ultimo gruppo, che ha creato una mission, si dedano con un rock in italiano. Krafti sia una rompizione. F'era qualcosa di molto amoredoso, che si è stato molto amore. Si, 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 si. Si, 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 si intenzioniamo e gli va bene, e sono molto bene. Si, chegou a quello che parla mia ancora? Qual è il tema della cancione? Il tema della cancione, è una relazione dove una delle persone da molti esperanzas, che al final sono falsi esperanzas, quindi l'altra persona sta un po' disappointed. Si, del desacuerdo. Exacto, come si dice in spagnolo. Però durante il estribillo io canto come se fosse una broma e le dico a la altra persona, si sigue parlando, che già lo sai, che è tutto mentira. Quindi il beat è pop e baiolongo, però si è tenendo un po' un po' melancolico come in tutte le mie lettere. Si, che tiene un punto un po' triste. Un po' triste. In questo caso hai detto, vanno a parlare o vanno a parlare di qualcosa di triste, però baiolando con il pop. E' la prima canzone, crei tu, di un nuovo progetto che ha Nina Blom, perché lei non si chiama Nina Blom, però sì che è vero che hai voluto un alter ego, no? Diciamo, mi identità a parte e la che sui al escenario è Nina Blom. Exacto. Qui è Nina Blom? Exacto. Si, mi chiamò Lara e chiaramente, anche mi piace bailar e tal, Nina Blom è un personaggio total. Nina è mio secondo nome, però in realtà, in realtà, quise jugar con il nome e l'apello, che è Blom è Flor, e giardina significa jardin, basicamente. Quindi, è una mescla. E sì, pensi di lanciare il personaggio total e che sia un personaggio al final, che non refleja, in realtà, mi personalità, però mi piace jugar. O se, ti piace mettere, hai detto, mi piace di un personaggio, no? Si, total. E così potrei essere la cantante del rock, del mio gruppo, no? Però, questo progetto popero di una forma independiente, no? Exactamente, sì, e ora sto, di esso, scrivendo altre canzioni, che io credo che vanno a essere, almeno ora, in inglese, sto lavorando in altri temi, sempre con il mismo produttore, Cesco González, Leguanch, che anche è catalano, e sì, credo che vanno a avanzare cose in inglese. Oggi, in Italia, ha già arrivato Parlami ancora o no? Sì, 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 si sta andando bene. Sì, seguiremo a fare Carina Blom, perché, non è necessario anche la musica pop, non è tutto può essere ritmo latino, o questi classici, come sempre, di la rumba, molto in Barcelona, è vero che è un nido di creazione, dove ci sono molti nuovi artisti, molti sono rumberi, però, perché non, il pop, che non è morto, il pop, no? No, e, no, è molto undervalutato, è vero, è vero, che ho trovato male, come se fosse molto commerciale, e io credo che sì, ose, tutto può essere commerciale, anche, una, una canzone molto rock, di ACDC, è una canzone commerciale, quindi, io credo che si deve separare il commerciale, dal, il, il, il mal gusto, al pop, ose, il pop, è una canzone, è una canzone, è una canzone, di così, il pop è uno di loro, Però si con Nina Blom, abbiamo qui, in Barcelona, una nuova artista che nace molto poco, ma che già sta per lì in le redes, petandolo, come si dice ora. Grazie, Nina. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi.